Prendono avvio i progetti degli ITI, investimenti territoriali integrati, con la firma da parte della Regione Marche delle convenzioni con i 5 comuni capofila responsabili delle strategie territoriali per lo sviluppo sostenibile e integrato delle aree urbane. A sottoscrivere i documenti è stato l'assessore regionale alle politiche comunitarie e agli enti locali, Goffredo Brandoni. Oggi sottoscriveremo la convenzione tra la Regione e loro, così potranno partire i bandi per iniziare i lavori. Gli ambiti interessati dalle strategie sono la rigenerazione urbana, la riqualificazione ambientale, la valorizzazione turistica e la capacità amministrativa. Gli ITI delle 5 aree urbane, Ancona, Ascolipiceno, Fermo, Macerata e Pesaro-Fano, sono finanziati per un importo complessivo di 28 milioni di euro, derivanti dai programmi FESR e FSE più Marche 2021-2027. Un bando esclusivo per i 5 capoluoghi di provincia e l'unico capoluogo di provincia abbinato ad un'altra città è Pesaro-Fano e poi gli altri chiaramente erano i capoluoghi di provincia che allargavano i comuni limitrofi. Questo era molto importante e quindi abbiamo adottato questa misura nella programmazione 27 per importanti interventi. Ciascun'area urbana avrà adesso a disposizione 5,6 milioni di euro e un orizzonte temporale di 4 anni e mezzo per realizzare la propria strategia territoriale con l'obiettivo di contribuire a rendere più vivibile il territorio e migliorare la vita dei cittadini nei comuni.